si in effetti hai ragione ragione ragazzi un attimo si sono fermate si sono fermate un attimo un attimo non ci credo si sono fermate si sono fermate ragazze scusate piccoli ciao hai ragione ragione hai ragione che ha detto lui ti conosco non ho capito però c'è avuto un attimo un sussu e vabbè vabbè poi lì ha capito perché sono fermate si vabbè comunque e finiamo